Alle preoccupazioni diffuse ieri dal Codacons, l'Associazione dei Consumatori sull'allarme sicurezza negli istituti scolastici anche della provincia di Salerno, ha risposto oggi l'ente presieduto da Michele Strianese, ricordando che ammontano a 3 milioni e mezzo di euro i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania in favore di Palazzo Sant'Agostino, proprio per consentire di eseguire lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Così, a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, il Presidente Strianese ricorda che tramite una nota sono 5 gli interventi attualmente in corso per un investimento di 1 milione e 600 mila euro. Altri 12 lavori invece partiranno entro il prossimo dicembre e prevedono una spesa di 1 milione e 900 mila euro provenienti dal Fondo diritto allo studio della Regione Campania. I lavori saranno eseguiti rispettando un calendario per evitare, sottolinea il Presidente della Provincia di Salerno, che vengano svolti tutti nello stesso periodo e consentire dunque la regolare prosecuzione delle attività didattiche. Gli interventi riguardano ripristino delle facciate, delle pareti, degli intonaci, la riparazione degli infissi, la sostituzione delle vetrate, l'istrutturazione bagni, l'adeguamento degli infanti. Poi ci sono gli interventi previsti nel piano triennale di edilizia scolastica della Regione Campania, che vanno approvati dal Ministero dell'Istruzione. L'ultimo intervento finanziato nell'ambito del piano triennale ha riguardato l'istituto Pisacane di Sapri. Il prossimo dovrebbe essere quello per la cittadella Scuola di Sarno, per il secondo lotto.